Sì, chiediamo al governo italiano e quindi al ministro Di Maio e al presidente Conte che l'Italia si impegni per far crescere il numero degli stati aderenti al cessato il fuoco globale, che si impegni a sospendere le vendite e i trasferimenti di armi alle parti in conflitto che non stanno aderendo al cessato il fuoco e infine che l'Italia incrementi l'impegno finanziario a sostegno del piano globale di risposta umanitaria delle Nazioni Unite. Il nostro appello è appunto al governo ma anche ai cittadini italiani, quindi di andare nel nostro sito, abbiamo preparato una petizione, è possibile firmarla e poi la manderemo al governo.